Se vi piace, chiamatemi Silvia Gatti, eccola qui! Buongiorno direttore Rotolino Adiposo, Dudu e Dadadà, com'è? Lasciamo stare, lasciamo stare. Come va? Tutto bene, te come stai Silvia? La vedo bene, tutto ok? Tutto a posto? Senta, le devo segnalare una cosa. Dica, dica, dica. Mi sono messa la crema idratante sulle mani e sui gomiti, quindi dopo il tavolo ne subirà le conseguenze. Ma per l'attenzione che scivola. Il tavolo qui dello studio. Ma sento anche un buon odore di pino silvestre. Non è pino silvestre, è menta e lime. E' la mia crema. Ecco, ecco, ecco. Il direttore non mi riconosce, comunque le fragrances. Grazie anzi per portare un profumo in questo studio, perché con me due ore dentro non è che sempre... Ah, ma che piacere! L'ha detto lei, non l'ho detto io. Sì, sì, ma non so. Comincia a fare caldo in questo studio. No, no, guardi direttore, lei emana fiori. Non possiamo accendere il condizionatore, sennò si sente nei microfoni e quindi la porta aperta dentro fuori. Ma il 28 giugno, mi spiace per voi, ma noi andiamo in vacanza. Sì, proprio ciao. Fra l'altro non ci sarò, purtroppo, perché sarò a mare, a bagno, proprio salutando. All'idroscalo. In Zegelia vado. Ah, hai capito. Però venerdì prossimo mi ripropongo come le cucurbitacee. Bene, 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 ma sono molto più digeribili, tranquillo. Grazie, le cucurbitacee. No, 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 a parte che ho sentito prima che ti lamentavi, che hai detto che ho detto che parli troppo. No, ho detto che parli tanto, non troppo, che è diverso. Una sottile differenza. Beh, è una sottile differenza. Comunque sì, mi lamento sempre, ma proprio questa cosa qua. Comunque, mi hai sentito che 20.000 studenti andranno a fare l'esame di maturità. Tu l'hai fatto? Ma certo, se no non sarei qui, credo. Io non l'ho fatto invece, quindi vabbè. In che senso? Non è una storia lunga di cui mia mamma ancora impaga le conseguenze psicologiche, soprattutto povera donna. Lo vogliamo sapere dopo. Non è niente, non è niente. Ma come? Adesso chiamo la signora. Signora? Sì, sì, si chiamano la signora Daniela. Daniela. Comunque, tutti ammessi però. Praticamente tutti ammessi. Li bocciano prima, giustamente, ci sta. Ah, cioè, in quarta che c'è la segata nostra. No, no, anche prima dell'esame in quinta. L'ho figlio di una mia amica, purtroppo, però meglio così. Quest'anno? Sì, meno peggio, nel senso. Tu fai l'esame e poi ti bocciano pure. Ok, volevo dirti questo. Diglielo, non dirglielo, che in realtà è uno dei pochissimi che non sono stati ammessi all'esame. Cioè, quest'anno la percentuale di gente che in realtà è stata già ammessa all'esame è altissima. Va bene, proprio tutti dentro e vai. Più o meno, sì. Questa è la notizia che abbiamo letto già dal Corriere della Signora questa mattina, insomma, ha stato fatto così. Molto bene. Ma com'era, com'era? Non ti ricordi la famosa notte prima degli esami? No. No, perché eri drogata. Ero fuori. Allora, dopo spiegherò cosa è successo al mio esame di quinta superiore. Era un istituto tecnico. A parte che, ragazzi, io ero una punk di quelle dure, ma proprio estetiche. In quell'istante proprio anche. Sì, io vestivo stile England 77. Andate a vedervi delle foto di chi gironzolava intorno alla boutique sex di Vivienne Westwood a Londra, chi girava intorno ai Sex Pistols. e quindi è stato, ecco, difficoltoso e poi difficoltoso in generale la mia vita in quel periodo, quindi, ecco, però sono passata con un bel calcione. No, ma io me la cagavo perché parlavo tanto, me li intortavo. Vedi, me lo immagino l'esame orale di maturità di Silvia Gatti. Va bene, va bene così. Vada via, la prego. Sulla fiducia, sulla fiducia. Musica, Amy Winehouse, Back to Black. Amy Winehouse, Back to Black. Quanto ci manchi, Amy? Lo devo dire tutte le volte, ma me lo sento proprio dal cuore dirtelo. Non ci manca, ma perché per fortuna è qui. Se non fosse qui ci mancarà tantissimo. Invece Silvia Gatti. Beh, grazie. Comunque ti è, eri ti è, però ok. No, ma non se non fossi qui, nel senso che appunto il 28 te la andrai in Sicilia. Allora ci mancherai, ad esempio. Grazie, sono viva. Sì, ma ci mancherà. Mancarci anche se sei viva. Grazie, che carino che è, direttore, stamattina. Ma facciamo una festa con bere e mangiare anche venerdì prossimo? E non per forza fra due venerdì? E vediamo. No, ma fra due venerdì spieghiamo a chi ci ascolta. Poi Milano News farà una festa con tutti gli stagisti passati. Quando? E il venerdì che non ci sei. Ah, proprio quel venerdì lì. Per quanto ti ho invitato. Ma uffa. Cioè, soprattutto con tutti gli stagisti che sono passati a studiare qui da Milano News dal 2016 a oggi. Ah, ok. Sono 80, io ho dovuto mandare 87 whatsapp uno alla volta a gente che non sentivo anche da 3-4 anni ormai. Ma che carino che sei stato, risposte. Hanno risposto quasi tutti. Che bello. No, no, non è vero, no, no, no. Già, vengono, verranno? Hanno risposto quasi tutti dicendo veniamo, veniamo molto volentieri. La cosa bella di questa storia è che, non so, ho scritto messaggi da persone che magari non sentivo da un paio d'anni, che mi hanno risposto, guarda, verrei volentieri, peccato che adesso abito a Roma. Ah, si sono trasferiti, ok. Un altro abito a Bruxelles. Sì, sì, ci sta, ci sta. Ovviamente, però bello, anzi. Che bella cosa dire che hai fatto. No, siamo molto contenti, infatti vedremo, insomma, tutte queste ragazze e ragazzi che sono passati qua in questi anni a Milano News, verranno appunto un po' a festeggiare la fine della stagione, insomma, siamo ben contenti. A parte che dove si scrocca da bere e da mangiare uno va, tendenzialmente. Sì, c'è un problema. Cosa? Nel messaggio è scritto ognuno porta qualcosa. Ah, o venite mangiati, ancora meglio. Problema qual è stato, vedi, da stemio, non ho fatto poco a questo ragionamento. Sì, è a stemio. Sì, sono a stemio. Adesso me ne vado. C'ho anche questa. Ce le ho tutte, io ce le ho tutte. Non ho fatto questo, mi hanno detto ognuno porta qualcosa. Sì. E giustamente i miei valdi giovani mi hanno risposto dicendo, ah ok, fammi capire, ma devo portare anche da mangiare oppure basta il bere? Loro vanno subito sull'alcohol proprio, i giovani d'oggi. E lì ho capito che avevo fatto una stupidaggine. Devi precisare. Non precisare che volevo dire, no, da mangiare. Una nuova cantina a Milano News. Mal che vada, una pizza la troviamo a volo da qualche parte. Sì, sì, sì. Buonasera e volevo condividere con voi. E questo titolo che come al solito fa capire tutto e fa capire niente. Dice questo. Mercato immobiliare a Milano. Ahia. Vendite ancora in calo. Strano, costa così poco. I prezzi. City Life, Porta Nuova, con le nuove costruzioni, battono il centro. Incremento. Però il maggior incremento, il 25,5% in più, non so rispetto a quando, perché come al solito scriverle bene sarebbe chiedere troppo, è registrato in Bovisa. Veramente. Da Bovisa, io ho sempre detto Bovisa is the new Nolo, perché l'altro quartiere in super crescita è Nolo, con il 22%. Che è Nord Loreto, no, si intende. Nord of Loreto, yes, yes. Sì, sì, sì. Quindi, Silvia, si vendono meno case, ma costano di più. Ecco, e quindi tutti in provincia e vai. Dici che è quello il problema. No, il problema credo sia proprio Milano, ho sentito di gente che abita a Torino e viene a lavorare a Milano, tranquillamente. Un'ora di treno, giustamente devi anche essere vicino alla stazione e a Torino e a Milano tendenzialmente, però proprio gente che abita non a Milano perché non se lo può permettere di fatto e quindi questo è. Comunque ci sono tanti bei posti anche fuori Milano, adesso non voglio dire qualcosa contro la città, ma è veramente assurdo, i prezzi sono veramente schizzati alle stelle. Stamattina sentivo in radio gli studenti, la maggior parte degli studenti del sud che vengono a studiare a Milano, se non ci fossero dietro i genitori non potrebbero assolutamente permetterselo, ma non perché fanno troppi aperitivi, è proprio costoso. Paghi gli studi, paghi quello che ti serve quotidianamente per vivere, paghi anche gli affitti, fra l'altro, parentesi, gli affitti. Ho sentito veramente anche di persone che affittano solamente un posto letto, però in condizioni improponibili, muffa sui muri, umidità, sottoscala, ma che è una roba improponibile? Un'amica in via Padova aveva trovato in bagno una turca. Beh, non male. No, non è normale Fabio. C'è una signora che era da Turchia. No, scusami, il bagno. No, la signora non era chiusa. Che passava di lì il bagno. Vabbè. Sai come dice mio papà? Tutto questo per la modica cifra di... Grande e ciulla. No, no, la cifra non la so, però... Immagino comunque neanche regalata. Un posto letto. Siamo sui 500, non vorrei dire una cavolata. Un posto letto, 400-500. Stanze in condivisione anche... No, no, no. Stanze in condivisione in condizioni... Pensa, un'altra aveva affittato una camera attraverso la quale bisognava passare per raggiungere la cucina, perché di fatto prima era il salotto. Non male. Ma tu capisci, è improponibile. Eppure... Chiunque andasse in cucina doveva passare dalla sua camera. Sì, eppure, eppure... Si riesce ad affittare. No, no, eppure poi in più la gente ha bisogno. È scorretto però. È veramente scorretto. No, 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 sì, sì, a un certo punto però ci sta, perché... Mi dispiace. Quello è quanto, quindi... E infatti molti cominciano a pensare che Milano non sia più magari... Per il proprio futuro, il problema è che le migliori università sono qua. Sì, è per studio. Stavo parlando per lo più di studenti, oppure persone che dicono... Le grandi aziende sono qui. Che devi fare? Altre persone che dicono piuttosto di pagare un affitto, vedo... Chiedo un mutuo a sto punto. Però effettivamente è una sorta di ricatto quasi, cioè nel senso... Certo, è vero, è vero. Da questo sistema. Va bene, tu sei a posto con la casa? Io ho avuto fortuna. No, l'ho ereditata. Oh, una gioia me la lasciate nella vita. Non ho un uomo, non ho i gatti che sono allergica. Sono ingrassata. Lasciatemi in pace. Almeno c'ho la casa. Questa potrebbe essere... Almeno c'ho la casa. Dopodiché, però sul curriculum potrebbe essere una cosa interessante. Ho la casa. Se una volta era automunita, invece è casa munita. Ok. Magari un uomo lo trovi. Non voglio nessuno. No, ok. Basta, via. Ognuno ha casa sua, come si diceva una volta. Neanche proprio. Non ti conosco. Va bene. Bene, quindi se volete conoscere la simpatica Silvia Gatti qui con noi, l'amorevole, aperta... Sì, delicata. Delicata qui con noi. Invece adesso noi andiamo con un po' di musica e poi piccola pausa e poi torniamo qui ancora. Va bene. Insieme a Silvia Gatti e un po' di notizie, così ce la chiacchieriamo un po' insieme. 3317853555, il numero di Whatsapp. Adriana non c'è più scritto, credo che sia già andata. Perché c'è... Sì? Ho un fan. No, c'è un evento di bocciofile a Milano. Ecco, Adriana ha detto, corro là perché ci sono i nonni e quindi potrei trovare marito. Vai di bianchino alle dieci e mezza già. Quindi non vorrei che abbia girato l'auto invece di andare al lavoro e andata al campionato di bocce in Viale Padova. Va bene. Andiamo con la musica, i Bee Gees. Baciami stupido, Marisa. Scusate, continuiamo a cercare... No, toccavo il pulsante per entrare in onda e non lo prendevo. Ma era un intermezzo, no? Ma che dici? Comunque, brava, brava. Vedi, ecco, quando il professionismo arriva... La faccia da chiulo. Si fa così, sì. Ah, si chiama faccia da chiulo? Da chiulo, anche sì. Ah, ok. Va bene. Baciami stupido. Quante volte l'hai detto, Silvia Gatti, a quelli lì che non si... O che erano dure a capire dovevano baciarti in quell'istante? Eh, no, baciami e non usavo stupido. Ah, ok. Usavo un'altra... Di solito li bacio io, non aspetto. Mi chiedo. Grande, vedi questo sì. Aggressiva. Questo è vero femminismo, altro che altro che bravo. Limonavo pure i pali della discoteca. Vabbè. Benissimo. Oggi sono contenta. Si si fa gli anticorpi. Se c'è il nuovo... Non ce la faccio. Si si fa gli anticorpi facendo quella cosa lì. Il nuovo avorbidente, volevo dire. Ah, ecco, perfetto. Sì, è così. Adoro. E va bene, sono le stagioni della nostra vita. A proposito di stagioni, è finita la stagione di Chiara Ferragni e Fabio Maria D'Amato perché le aziende della Ferragni cambiano direttore generale. Esatto. Ho letto il titolo da Repubblica in questo caso. Chiara Ferragni e Fabio Maria D'Amato si separano le strade. E tu dici, ma non è ancora questo gossip che parla. Quando poi in realtà il titolo potrebbe essere, ad esempio, Fenice, TBS e Crew cambiano il direttore generale. Ferragni che decide per la ristrutturazione, il rinnovamento agendario. E poi però non mi clicchi se mi scrivi così. Ah, è quello vero. Se la metti sul patetico, nel senso di pathos, allora sì. In realtà Fabio Maria D'Amato ha rilasciato un'intervista per la prima volta, comunque un comunicato, un intervista, è la prima volta che lui si espone riguardo a questa faccenda. A onore del vero dobbiamo dire anche che lui ha negato di essere stato licenziato. Ha detto che voleva già andare via a febbraio, ma gli è stato chiesto di rimanere fino a giugno anche per il bene di tutte le persone che lavorano per le due aziende di Chiara Ferragni. Ricordiamoci che mentre noi guardiamo l'ultimo giro di Fedez in Ferrari e l'ultimo giacchino di Miu Miu, di Chiara Ferragni, ci sono delle persone che hanno temuto di perdere il lavoro. Perché si parla di aziende. Qui c'è sempre un po' la personalizzazione che ci sta per un'azienda a persona, diciamo. Però non è oltre il gossip. Questa è la notizia che dovrebbe essere scritta sulle 24 ore. Perché due aziende che comunque producono... Cioè è inutile che si scriva ancora i Ferragni, no, non sono solo i Ferragni, sono notizie di, vogliamo dire, quasi di economia, di gestione di azienda. Non la paragoniamo alla Ferrari o alla Fiat, ma se fosse un'altra azienda qualsiasi qui dell'Inter, andiamo da manuffettere, una bella azienda, un bel mobilificio in bianzolo. Ecco, leggeremo che, non so, i sindacati fanno la mozione. Ma certo che sì. So che ha preso molto le redini la mamma di Chiara Ferragni, non so se solo a livello però di fiducia o anche pratico. C'è da dire che anche loro non fanno niente per far sì che non si agossi, perché è tutto sto casino. E poi, mamma, vieni qua un attimo, ti afferzi e dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Ah, parentesi, Muschio Selvaggio, adesso è completamente di Luis Salle, è stato decretato questo. Comunque, non so che abilità abbia Marina Di Guardo, che è una scrittrice, la mamma di Chiara Ferragni, per quanto riguarda la gestione delle aziende, però penso che faccia più solo nome. Ecco, non sono sicuro. Fabio D'Amato ha specificato che ha curato anche Luca Vezil, l'ex di Valentina Ferragni, Valentina Ferragni, il truccatore Mameli di Chiara Ferragni, quindi lui ha voluto precisare che lavorava non solo per Chiara, ma ha seguito altre persone anche. Quindi si è tolto dei macigni dalle scarpe probabilmente griffate e soprattutto ha detto non appartengono a me quelle mail che l'azienda di Chiara Ferragni ha scambiato con Balocco dove si diceva che ce ne fregavamo dei bambini, dell'ospedale, eccetera, eccetera. E di chi erano allora? Boh, non è dato saperlo. Ha detto che non si può molto esprimere però ancora sul Pandoro Gate. Beh, perché c'è un'indagine in corso, lui è tra quelli indagati in questa indagine, quindi giustamente nel senso... È stato zitto finora però lui, eh? Complimenti, vien da dire. Sì, anche a me, anche a me. In un momento in cui chiunque apre bocca e dice la prima cosa che gli passa per il cervello fa capire che forse appunto, ripeto, non stiamo parlando di gossip, ma stiamo parlando di manager più o meno capaci, più o meno onesti, poi lo capiremo, lo vedremo, anzi non saremmo noi deciso, sarà deciso le magistrature e chi per esso, ma che fanno i manager, cioè che fanno le aziende, che fanno economia, che fanno lavoro, non che sono qui a postare le storie che non possiamo fare gli etè. Certo, fra l'altro lui ha detto ci sono state delle colpe, ma non sono tutte mie, cioè è anche giusto, infatti Selvaggia Lucarelli stranamente ha condiviso, vabbè non stranamente, ha condiviso questo comunicato di Fabio Maria D'Amato, ma ha anche detto che lui stava probabilmente lavorando in un ambiente totalmente privo di idee e stimoli e probabilmente uno come lui che magari è anche capace, messo in un ambiente così, alla fine ha sbagliato Ma captazio benevolenza di… Sì, guarda, io Selvaggia sai che la seguo ovunque, vada, qualsiasi cosa dica, vado subito a guardare e poi vabbè, c'è anche la parte gossip che non manca mai, le vogliamo parlare dopo la pausa musicale o no? Sì, dai, perché sennò parliamo troppo. Sì, dai, tiriamo il gossip, tiriamo il gossip, vediamo con un po' di musica e poi parliamo anche noi di gossip. Megan Taylor, T-Pain, Being Like This alle 8.44 minuti, aspettavo che passasse il secondo giusto, qui su Cristal Radio, Good Morning Milano insieme a Silvia Gatti. Stavamo parlando appunto del cambio di direzione alle due aziende, la Fenice e TBS Crew di Chiara Ferragni, quindi Fabio Maria D'Amato non sarà più il direttore generale e stavamo dicendo appunto che questo non è gossip, è tutt'altro, però c'è anche del gossip, perché poi arriva, lo producono, non so come dire, sono aziende che producono gossip. Assolutamente, ma è un gossip ancora una volta così costellato di strategia, perché andiamo ad analizzare alcune foto uscite su Novella 2000 e altri account Instagram. I rotocalchi. I rotocalchi. Cosa vuol dire rotocalchi per i dati del 2006? Quelli che rotolano. Ok, a diposi. Allora, Fedez, una modella francese, li hanno visti da Cracco, ristorante caro alla coppia Chiara Ferragni-Fedez, dove cenarono la prima volta che uscirono insieme e dove ci fu questa cena di San Valentino, però sponsorizzata, dove si vedeva solo una mano di Chiara, perché secondo me già San Valentino non l'hanno festeggiato nel 2024, Chiara e Fedez. Si affacciano sulla balconata di Cracco, che dà in galleria e l'atto, vengono fotografati. Ma, ma, li hanno fotografati. Ok. E poi giretto sulla nuova ultima Ferrari di Fedez. Questo è uno schema paro paro, preciso, di quello che è successo quando, invece, Chiara Ferragni ha cominciato a frequentare Fedez, credo nel 2016. Cracco, più giretto in macchina luxury. Ok. Nel frattempo la Chiara... Non è che adesso non me ne voglio, non è che aveva una Ford Fiesta all'epoca, comunque. Neanche una Panda, credimi. Credimi, no. Adesso ha la Ferrari, prima qualcosa comunque di buono. Ma guarda che Fedez, prima di Chiara, viveva al Bosco Verticale, ragazzi. Quindi comunque è fatti di me. Non certo a Bucinasco, mi viene da dire. Sì, sì, non è più il ragazzo di Rossano, di un giorno lì, infatti. Stesso schema, appunto, di anni fa, dell'inizio della storia con Chiara Ferragni. Nel frattempo Chiara Ferragni mi si fa vedere a cena con il trapper Tony F. Tony F o Tony F? Tony F. Io ascolto Mina anche con Tony F. E voi mi direte, embe, embe aspetta. Ah, ma a loro gli piace il rap davvero. Sì, le piacciono non molto alti, tatuati e repusi. Tony F è romano, un grande successo nell'ultima sua canzone Sesso e Samba con Gaia, come se la conoscessi. Ecco, succede che vanno a cena insieme e quindi Chiara Mattevoi fa l'ex amico di Fedez perché erano amici. Ah, Tony F era un amico di Fedez. Sì, era. Adesso Fedez ha litigato anche con lui, pare. Fedez ha più ex amici che altro. Veramente, che senti me? No, poverino. No, no, no. Chiara Ferragni che si fotografa ultimamente con la marca Miu Miu, l'abbiamo detto prima, con il brand Miu Miu. Uno dei pochi rimasti, forse l'unico, dove si sta taggando. Continua quindi a... Continua la colla a bollare. Ma come mi si chiama l'ultima song? Una delle song, scusa, di Tony F. Una delle canzoni di Tony F, come si chiama? Miu Miu. Ah. Eh, tac. Grazie Selvaggia Lucarelli, la strannominiamo, le fischieranno le orecchie. Io se no non ci sarei arrivata. Quindi questo sì è gossip, ma c'è dietro evidentemente qualcosa da pubblicizzare e monetizzare. Sì, tra parentesi mi viene a dire che sicuramente, il problema qual è? Il mischiare la vicenda umana, cioè sicuramente stiamo parlando di, tra parentesi, due genitori che si stanno separando, che stanno comunque... Io ci penso sempre, nonostante sapete che non è che proprio ami i bambini, lo dico spudonatamente così, però io continuo a pensare comunque a questi due poveri cristi, questi due poveri bambini che si trovano in mezzo a questo ginepraio. Quindi da una parte umana, poi comunque io ci credo al fatto che fossero due che si sono innamorati, che stavano insieme. Anche secondo me comunque. Su questo secondo miso, quindi la sofferenza umana secondo me c'è. A me sconvolge il fatto che in questa sofferenza umana molto probabilmente ci sarà però un disegno invece aziendale, che ripeto, cioè non è che sta a dire non è vero che si sono lasciati, è verissimo e si lasceranno, e si lasceranno anche male molto probabilmente, ma comunque dietro c'è un lavoro aziendale, lavori aziendali di entrambi, per comunque tentare di, cioè non tentare, di cercare comunque di continuare nel loro lavoro. È il lavoro, esatto. Anche in coppia nonostante separati, cioè non so come dire, cercare di creare, queste situazioni per cui poi è win-win per entrambi, dal punto di vista commerciale, economico e aziendale. Umano sicuramente no, però. No, 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 lei ha avuto un gravissimo danno. Adesso lei parla di progetti nuovi, si parla anche di una sua parte recitativa in un film, non diciamo di più, andate a cercare. Ah sì, ho letto qualcosa. E quindi si fa anche fatica, dopo una botta del genere, a rimanere a gala, tant'è che alcuni maligni dicevano, Fedez, appena la luce si è spenta, il falena, come lo chiama Selvaggia Lucarali, se ne è andato, ok? E giustamente non voleva magari neanche essere troppo coinvolto in questa cosa, anche perché Fedez lui stesso faceva beneficenza con, appunto, sempre coinvolti i bambini, ma è stato controllato tutto e Fedez ha tenuto a dire qualche settimana fa che le sue società sono uscite pulitissime, anche la beneficenza che ha fatto non è uscita pulitissima, eccetera. Quindi molti poi dicono, sì, ma non devi mollare tua moglie. E altri dicevano, erano già in crisi da mo'. Quindi sai, ma tutto si mischia, il gossip, anche a delle cose serie, aziendali e di persone che lavorano. Il problema è che si mischia tutto, infatti, quindi è complicato da gestire. In realtà, il film che dicevi tu, potrebbe essere il prossimo film su Maserati. Ah, vedi? Tra parentesi, mi vien da dire, bene, tutto bene, però posso dire, avete fatto Ferrari, avete fatto Lamborghini, mo' Maserati. Tra parentesi, la stessa casa di produzione la sta facendo, cioè, va, è che è una enciclopedia dell'automobile, cioè, basta. Ma Fedez si comprerà quindi una Maserati fra poco? Ah, è interessante capire quello, infatti, se... O ce l'ha. O farà una canzone in titolo da Maserati. Maserati. Non so. Qui, devo dire che l'avete, però, su questa cosa qui, delle canzoni così, diciamo che, appunto, Shakira è stata una delle prime, no? Le Revenge Song, certo. Sono sempre state, però non erano così alla portata di tutti. Adesso poi Shakira è stata quella che poi era sdoganata e ne ha fatte il tipo due o tre. Mi ha fatto un album intero, praticamente, di Revenge Song. Si è calmata la Shakira, però esce con un bono. Posso dire, meno male. Anche perché posso dire che non ce ne frega niente noi altri. A me sì. Cioè, a me mi sentivo la canzone, non perché te sei incazzata da qualcuno. Però spaccava la canzone, un ritmo. Wella! Lo so, preferisco Adele, che ogni volta che la lasciano fa un disco. Vabbè, Adele è un altro stile. Fa un disco, però fa un disco pazzesco. L'hai vista quella matta sul palco, Adele? Che si è incazzata con quello del pubblico. Che ha detto che il Gay Pride sucks. Sì, sì, lei ha detto, praticamente, Saks Studio. Gli ha detto, ma tu veramente vieni qui al mio concerto a dire una roba del genere? Sei stupido, stai zitto? C'ha ragione. Matta come il botto. Adele, sempre nei miei pensieri. Adoro. L'adoro da sempre. Stupenda. Da sempre, da sempre. Andiamo con la musica e poi torniamo qui perché siamo quasi in chiusura. Siamo quasi con i saluti finali. E questa è Nina Zilli insieme a Giuliano Palma con 50.000. Io lo adoro questa canzone, bravo io. Giuliano Palma è proprio un pezzo della mia gioventù. C'è poco da fare. C'è lui, le sue trombe, i suoi ska, non ska, i suoi blues. È un grande, davvero. Io ho sempre amato tantissimo Giuliano Palma. In questo caso Nina Zilli. Canzone che sembra una canzone che arrivi da chissà quando, da chissà dove. Un po' retro. 2009. Eh sì. Che ormai è un po' lontano nel tempo. 15 anni fa, però... Però tu immagini, e invece... Perché quando due artisti di quel calibro si incontrano, questo è quello che rispondono a produrle. Silvia, siamo quasi in conclusione. Va bene. Non ti ho fatto la domanda principale, perché ho detto oggi appunto abbiamo fatto gli esami di maturità cariglose della prossima, quindi avevi portato un tema per l'esame? Pasolini, Pierpaolo Pasolini che si è rivoltato nella tomba praticamente. Nel momento in cui lo nomini oppure... No, non lo nomino più. Da quell'esame, nel 2003 praticamente, sai che devi unire tutte le materie in un discorso sostanzialmente. Sì, perché credo fosse così la terza prova. No, era l'orale. Non mi ricordo, ma sì, figura. Perché poi cambiano, adesso avevano fatto la terza prova e ho scoperto che non esiste più la terza prova. Non esiste, ecco. Ma c'è l'orale, giustamente. C'è l'orale. Non avevo studiato quella che allora era economia aziendale, perché non riuscivo neanche a collegarla a Pasolini e non la ritenevo interessante. È un po' difficile. Io decidevo, ho capito, perché ero un po' paracchiula. La prof di economia aziendale adirata, come mai, mi ha corretto tutte le S della terza persona in inglese non dette, lei, e non la prof di inglese. Io ti dico solo questo. Io ti dico solo questo. Ecco, in più sembravo Nancy Spangen, la ex di Sid Vicious, come mi sono prese. Quindi, guarda, però io... Se non ricordo male, spero che abbia fatto una fine migliore della ex di Sid Vicious. Sì, sono qui per questo. Perché mi ricordo che non era finita molto bene. No, è morta. Ecco, però nera, insomma, la prof di economia aziendale, che saluto ovunque sia. Ma fammi capire, ma eri l'unica in tutta la scuola così o c'era un bel gruppetto? Ho avuto un bel gruppetto di piccoline che si sono aggiunte un paio d'anni dopo. Ho dato il via. Erano più fricchettoni. Quindi diciamo che sei arrivata in quinta e che avevi la tua clac dietro. Purtroppo sì, per loro. Le groupies. Le groupies, sì, sì, sì. Perfetto, va bene. Silvia, andiamo con la sigla? Sì, dai. Sigla! E alle 8.56 Silvia Gatti e Fabio Ranfi vi danno appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie per averci ascoltato quest'oggi. Cosa vai a fare di bello adesso poi Silvia dopo la trasmissione? Devo stirare. Devi stirare? Sì, 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 devo stirare. È così, ormai questa è la nostra vita da grandi... Tu pensi, da punk a stiratrice. Pensa a te. Pensa a te. Però dai, dimmi che stiri, non so, calze a rete, magliette con sussidvicius, così almeno c'è... Allora, le calze non si stirano. Non so, però... Mille Collant. Un punk devi stirarle per fare gli buchi. Adesso? Non le uso più per essere punk, le calze a rete. Ok, ok. Non voglio usare quelle contenite... No, scherzo. Sì, sì, è esattamente quello. Quello è il vero punk. Quello è il punk. Niente, qui la colpa è di Bridget Jones, lo sappiamo, la storia dei mutandoni in poi... Bridget Jones, arrapanti. Vedi, ecco, basta, ce l'ha distrutto tutto l'immaginario. Interrogazione e maturità, dopo di noi cosa succede invece qua su Cristian Radio? C'è Alberto Curti, ho studiato. No, sì, si chiama Ambrogio, ma è sempre... Ah, già, Alberto? Non mi aggiungere un nome ad Ambrogio Curti, perché si chiama Ambrogio Gianfranco Curti. Ci mettiamo pure un Alberto in mezzo e non ne veniamo più a capo. Però ho fatto il cognome giusto. Giusto, sì, sì. Senti questa, Ambrogio Curti, dopo di noi. Buon weekend, allora. Noi ci sentiamo lunedì, con Silvia venerdì. Grazie di essere stato qua con noi. Buona giornata, grazie a voi. Grazie a tutti. Questo è Good Morning Milano, questa è Cristian Radio e vi dà appuntamento a lunedì. Buon weekend. Ciao a tutte e a tutti. Ciao! Ciao!